Ciao, ancora una volta vi parlo della GT e più precisamente della coppia di elettromotrici ALE 630-001 e rimorchiata LE 790-013 delle Ferrovie dello Stato, modelli a oggi mai riprodotti in larga scala. Bene, vedremo insieme tutte le fasi di lavoro necessarie per aggiornare i modelli in questione e dotarli di impianto digitale. Questa volta non mi dilungo oltre e lascio la parola a Maria Flavia del Curatolo, responsabile storica del GSM. Buonasera a tutti, sono Maria Flavia del Curatolo e questa sera abbiamo occasione di parlare brevemente di elettromotrici italiane della prima generazione, segnatamente di unità del gruppo ALE 790 e del primo sottogruppo di queste elettromotrici, quello numerato da 001 a 022. Parliamo di due unità di questo sottogruppo che ebbero delle vicissitudini particolari. La prima, la ALE 790-009, nell'ottobre del 1940 nel deposito di Bologna-Ravone, venne allestita con una disposizione particolare dell'arredamento interno. In luogo degli originari 23 posti di seconda classe e 56 di terza, che davano origine alla classificazione ALE 79, 79 posti complessivi, poi ALE 790, ricevette invece 63 posti tutti di seconda classe e disposti con moduli di sedili 2 più 1, quindi una disposizione dell'arredamento particolarmente confortevole considerando il tipo di veicolo, la sua destinazione d'esercizio e l'epoca. Questa elettromotrice fu pertanto riclassificata ALE 63-00-01 per i suoi 63 posti complessivi, poi ALE 630-001 e dopo un'iniziale assegnazione al deposito di Bologna centrale, fu assegnata dall'agosto del 1941 al deposito di Roma Littorio, l'attuale Roma smistamento. L'elettromotrice rimase in queste condizioni fino al 1959 e le sue vicissitudini si incrociano con quelle di un'altra unità dello stesso gruppo, la ALE 790-013, che al termine del secondo conflitto mondiale risultò talmente danneggiata e depredata che la sua ricostruzione non permise di riallestirla come elettromotrice, in quanto non si riuscì a reperire gli equipaggiamenti elettrici per rimetterla in sesto come elettromotrice. Pertanto nel 1947 questa unità fu ricostruita come rimorchiata e assunse la classificazione di ALE 790-013. Rimase in tali condizioni per 12 anni fino al 1959 quando fu rimotorizzata e riallestita come in origine, come ALE 790-013. Nello stesso anno l'ALE 630 venne riallestita di nuovo con 23 posti di prima classe e 56 di seconda, anziché 23 di seconda e 56 di terza, perché nel frattempo, oltre giugno 1956, era stata abolita la terza classe, per cui c'è stato questo scalare di classi. Altre unità come l'ALE 790-013 subirono questa sorte di essere riallestite dopo la guerra come rimorchiate, questo per la penuria di materiali, la necessità di fare presto, a rimettere in circolazione quanti più veicoli possibile. Questa cosa ci consente anche un'altra osservazione storica, che la maggior parte delle unità del gruppo ALE 790-001-022, in questa ricostruzione frettolosa post bellica, diventarono in realtà delle ALE 880, perché furono allestite con 88 posti, anziché 79, tutti su panche di legno. Poi al principio degli anni 60 queste macchine vennero riallestite con i divanetti imbottiti, ma sempre rimanendo ALE 880, e quindi dell'originario gruppo ALE 790-001-022 ne rimasero veramente poche. Ora, questo escursus sulle macchine vere ci porta a parlare di queste macchine anche nella loro riproduzione modellistica, fattane dalla GT, che è una casa nata come artigianale, poi diventata industriale, nata nei primi anni 80, una casa romana, della quale io stessa sono una grande stimatrice, perché ricordo teneramente come quando nessuno produceva le elettromotrici italiane marroni, le vecchie elettromotrici, che tanto erano affascinanti quando le si vedeva nella realtà, nessuno le produceva, le grandi case del settore non le facevano, e quindi a questa lacuna rispondevano gli artigiani come GT e altri marchi, e grazie a loro, sia pure con un po' di sacrificio finanziario, si poteva possedere queste macchine così caratteristiche del panorama ferroviario italiano. Abbiamo parlato di questo perché due di questi modelli GT sono stati elaborati, lavorati dal nostro Andrea Picard, e ne vedrete i frutti nel filmato che vi andiamo a presentare. Ringrazio Maria Flavio e del curatolo per il prezioso intervento. GT ALE 630 è rimorchiata all'E790 in Digital Connection, un gioco da ragazzi. Buona visione a tutti. Ed iniziamo con l'unità folle, ed esattamente l'E790, che si apre facilmente come tutti i modelli di GT, svitando questa vite centrale. Quindi procedo con... Eccola. Poi, l'unità stessa è sufficiente ad alzare la cassa. Da notare però che nelle due estremità i gruppi ottici tendono ad incastrarla al telaio che funge da riproduzione interna. Quindi con l'ausilio di un'elica vado a sollevarla. Ed infatti c'è questo. Ed ecco il modello aperto. Come si presenta? In maniera abbastanza semplificata. L'interno è parzialmente riprodotto. La cassa, eccola qui. E i carrelli prendono corrente su tutti e quattro gli assi. Bene, procediamo con lo smontaggio di tutti gli interni. Inizio a smontare completamente le parti interne, per poi staccare e smontare i due carrelli. I contatti striscianti prendi corrente, li riallineo in modo tale che non toccano la superficie di contatto con il binario, ma il bordo esterno. Il cabalaggio dei fili elettrici lo faccio passare all'interno di canaline per rendere il tutto razionale e ordinato. Con una semplice basetta mille fori realizzo la PCB dove inserirò il morsetto 8 pin relativo all'innesto del decoder, che andrò poi a posizionare su supporti in plastica attraverso due viti. Realizzo una mini PCB sulla quale saldo un LED bicolore bianco-rosso che andrà a illuminare i fanali. I fili elettrici di collegamento passeranno all'interno di questo foro e dentro una canalina e verranno collegati alla PCB di comando. Due comuni strisce di LED comandate attraverso l'uscita ausiliaria F1 del decoder illumineranno l'interno del modello. Il cablaggio perciò risulta ordinato e razionale. Vediamo qui di seguito l'effetto delle luci. Stesso procedimento per l'unità motrice dove una volta smontata completamente sostituisco tutti i fili elettrici con fili dai colori a norma NEM ed eseguo una pulizia approfondita di tutti gli organi meccanici riallineando i contatti elettrici striscianti. Realizzo la PCB con il nesto NEM a 8 pin per l'inserimento del decoder. Inserisco sul tetto la striscia di illuminazione a LED e collego i fili alla PCB attraverso uno spinottino bipolare. Ed ecco l'effetto di luce ottenuto. Anche quest'opera è giunta al termine. La semplicità rende sempre il tutto un gioco da ragazzi. Auguriamo un buon lavoro a tutti voi. Auguriamo un buon lavoro a tutti voi. Auguriamo un buon lavoro a tutti voi.